allora benvenuti a un'altra puntata della bibbia dice così vi ricordo che l'obiettivo di questo programma di questa trasmissione focalizzare la nostra attenzione sui messaggi che emergono dai testi sacri perché i testi sacri che sono stati scritti alcuni millenni fa perché siamo convinti che nonostante sia passato così tanto tempo questi testi sacri continuano a parlare oggi non solo ma i testi sacri cioè per noi cristiani la bibbia la sacra scrittura hanno qualcosa da dire all'umanità anche oggi ma il plus valore di questo pezzo di letteratura mondiale è che l'unico testo di letteratura capace addirittura di trasformare la mente la divina commedia ha un grandissimo valore i promessi sposi hanno un grandissimo valore mi piace moltissimo l'odissea e mi piace moltissimo l'iliade da buon figlio della magna grecia però francamente ulisse non è il nostro esempio di vita e non ci trasforma o mero non sarà mai il nostro trasformatore ma amiamo la letteratura che si è sviluppata lungo le coste del mediterraneo e lungo le coste del mediterraneo si è anche sviluppata la sacra scrittura la bibbia oggi parleremo di questi argomenti insieme a francesco micocci e anche a vincenzo abate un vecchio amico anche se lui è giovane ma non ho detto un amico vecchio ci conosciamo da un po di tempo poi è stato nostro ospite in queste trasmissioni per una ragione specifica all'interno di questo contenitore la bibbia dice così abbiamo da qualche trasmissione inserito un po come un interesse una mira una prospettiva particolarmente per che indirizzi il messaggio evangelico il messaggio biblico ai giovani quindi non è il contrario ogni tanto facciamo delle analisi diciamo di carattere sociologiche sociale però ritorniamo in realtà partiamo dalla bibbia perché a monte noi abbiamo questa convinzione che se noi riusciamo a esporre la nostra mente il nostro cuore all'influsso delle sacre scritture qualcosa accade e mi pare che questo tu lo possa confermare da pastore o no sì sì io lo confermo da pastore c'è un problema nelle chiese per quanto riguarda i giovani e ci stiamo cercando delle soluzioni per far riavvicinare i giovani alle chiese anche perché proprio in questa trasmissione tratteremo dei motivi per il quale i giovani si allontanano dalle chiese ecco allora abbiamo a monte una statistica che è stata in questo caso che poi francesco ci leggerà sono alcuni punti che dovrà sottoporre alla nostra attenzione particolare forse riusciremo a toccarne uno alla presenza di vincenzo perché tu sei un po come un punto di riferimento per confermarci che con questi punti stiamo toccando delle criticità che sono presenti addirittura all'interno delle comunità allora oggi l'argomento principale è il rapporto dei giovani con la chiesa o per essere ancora più specifici il rapporto dei giovani con il culto con la funzione religiosa con quel momento particolare della comunità in cui i credenti si trovano insieme per cantare pregare e sentire la parola di dio qui purtroppo un po i ponti si rompono e a un certo punto abbiamo una criticità allora la prima statistica alla quale che fra poco ci leggerà francesco riguarda gli stati uniti alcuni anni fa il una società un gruppo cristiano il barna group ha fatto un'indagine presso i giovani perché risultava c'era un problema negli stati uniti c'è l'abitudine questa più o meno tradizione che quando i ragazzi arrivano all'età finiscono alla scuola media superiore prendono il diploma e vanno al college o all'università più o meno la stragrande maggioranza dei casi per andare proseguire con gli studi se ne vanno dalla propria città quindi si allontanano dalla famiglia e di conseguenza si allontanano anche dalla propria chiesa di appartenenza è stato rilevato che in questo trasferimento si registra purtroppo una criticità e cioè parecchi giovani figli di credenti che da bambini hanno frequentato la scuola dominicana e culto i culti a un certo punto si allontanano dalla chiesa e ancora peggio si allontanano addirittura dal signore allontanarsi dal signore vuol dire che perdono il contatto con la realtà divina e il barna gruppo però ha voluto vederci chiaro e allora si è chiesto per quali ragioni i giovani se ne vanno non vogliono più venire in chiesa quindi sentiamo questi sei punti che loro hanno dato la prima statistica davvero inquietante è questa che tre giovani cristiani su cinque dopo i 15 anni abbandonano le chiese quindi il 59 per cento questo uno studio di un progetto di cinque anni che hanno condotto sulle chiese e il primo motivo quello che ha una percentuale più alta è stato riscontrato tra i giovani tra i 18 e 29 anni che hanno affermato che i cristiani demonizzano qualsiasi cosa al di fuori della chiesa e la chiesa ignora i problemi del mondo reale e la mia chiesa alcuni ragazzi hanno detto è troppo preoccupata che film musica e videogiochi siano dannosi questi sono i motivi tra i principali quelli che hanno le statistiche più alte che portano i ragazzi ad allontanarsi però io direi di leggere anche tutte le altre spiegazioni se dal punto di vista dei ragazzi loro hanno detto queste sono le cause per cui non vogliamo più venire poi magari sì il 24 per cento ha affermato che la fede non è rilevante per la mia carriera o per i miei interessi quindi hanno un'esperienza del cristianesimo poco profonda un altro 29 per cento affermato che le chiese non sono al passo con il mondo scientifico in cui viviamo anzi spesso le vedono come antagoniste alla scienza e alle scoperte e molti hanno detto che non si parla più tanto del della teoria dell'evoluzione rispetto a quello che noi crediamo della creazione altri il 17 per cento affermato che nelle chiese non si parla di argomenti come la sessualità anzi si 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 parla spesso in maniera semplicistica o troppo in maniera troppo giudicante e un altro motivo è che le chiese il 36 per cento dice che la chiesa non permette il dubbio se qualche ragazzo pone dubbi sulla sulla bibbia su quello che viene scritto la chiesa a volte non risponde anzi demonizza questo questo aspetto ora tu hai fatto una statistica che diciamo l'hai fatta in un campo in tre campi in tre campi possiamo dire senza scenari e dettagli si può dire dove l'hai fatto sì sì no assolutamente anche per città reggio un altro in sicilia un altro in campania e quindi in maniera anonima circa 300 teens quindi parliamo di ragazzi fino a 18 19 anni i ragazzi sono stato intervistato in maniera anonima i ragazzi sono offerti hanno partecipato sia al mio workshop che era un workshop senza titolo e da da dalle problematiche anonimi che emergevano io ho tirato fuori gli argomenti di di quale chiesa stiamo parlando non parlo di chiesa di nel senso cioè senza fare nome e cognome allora la maggioranza come denominazione diverse denominazioni c'erano al mondo pentecostale pentecostale sì pentecostale gran parte c'era zoccolo direi l'assemblea di dio insomma aria miste miste quindi gli argomenti o l'argomento specifico che trattiamo ora è il rapporto che i giovani hanno instaurato con la chiesa e perché a un certo punto poi questo rapporto si spezza questo riguarda tutte le denominazioni assolutamente sì te lo dico anche come un bagaglio di esperienza perché negli ultimi due anni ho veramente girato tanto e parliamo adesso di italia tutte le denominazioni chiese grandi chiese piccole ci sono tantissimi problemi e quelle statistiche sono molto vere molto forti anche in italia in numeri ridotti perché rispetto agli stati uniti meno diffuso il cristianesimo ma i problemi sono un po uguali è stato scioccante vedere nella statistica come che poi una causa collegata la maggioranza dei ragazzi in 32 per cento degli intervistati in maniera anonima ha dichiarato di non accettarsi quindi pensare al suicidio di non volersi superiore a quello che potrebbe essere l'uso dei social o la pornografia in tendenziale aumento è la luce dei videogames quindi di ragazzi cresciuti quindi nella chiesa quindi non parliamo di quello che dico ragazzi nostri figli ragazzi delle scritte i nostri campi che presentano problematiche del genere che poi ci porta in tutto quel mondo che allontanarsi anche da dio ma in primis anche da quello che è un culto una semplice riunione senti tu hai avuto modo di come dire di trasferire un po questi dati al corpo pastorale dire guardate che è una cosa è quello che voi pensate altra cosa è quella che succede dietro le quinte o no assolutamente sì e come hanno reagito i pastori molti scioccati molti scioccati nel senso che non se l'aspettavano non se l'aspettavano quando anche visitando per conferenze parlando con i giovani mi piace molto continuare la relazione con i responsabili leader perché sono i loro ragazzi e quindi magari un ragazzo si può aprire di un problema cerco subito di metterlo in contatto o col suo leader o i leader direttamente a conoscenza di quelle che sono i problematiche ti posso dire che è emerso di tutto anche uno degli argomenti che affronta è come l'occulto influenza le generazioni quindi come la magia la stregoneria l'occultismo entra con i videogiochi all'interno della chiesa e mi ha impressionato alcuni dei punti che lui ha detto perché c'è la wicca che la stregoneria nascosta mascherata la religione della natura che sta facendo un danno incredibile all'interno della chiesa e punta cosa a cosa quali sono i principi non porta più ad adorare satana la strega quello è la conseguenza finale ma prima cosa dice tu devi adorare te stesso devi fare a me il meglio che da te e porta un concetto direva relativismo gli adolescenti e giovani dicendo chi lo ha detto che non posso farlo dove sta scritto infatti se studiando e se per me permetti faccio un po di pubblicità occulta perché ci sto scrivendo un libro che si chiama io sono una luce dove tratterò appunto a farlo uscire questa dove tratterò questo argomento perché uno dei punti della stregoneria moderna è quello che dice togli dalla tua mente i concetti assoluti su dio sull'entità del peccato e della salvezza e comincia a lavorare su quello che ti fa ti fa stare bene collegato al principio del satanismo che dice fai ciò che vuoi quindi questi principi stanno governando questa generazione e questi questi dati sono emersi c'è da questi dati è emerso che anche i figli di credenti che frequentano regolarmente i culti anche se noi siamo partiti diciamo con il tema perché lasciano la chiesa ti faccio ti faccio proprio un esempio questi dati ci sono nella assoluta ti faccio un esempio personale quindi posso parlare di me una ragazza un giorno viene mi dice vincenzo non posso venire 14 anni figlia di credenti entra nei 15 non mi sento più di venire ai tuoi incontri la prima cosa che faccio io dico come mai ti abbiamo fatto qualcosa mettendo noi in discussione perché credo che c'è anche questa parte che va fatta abbiamo sbagliato in qualcosa e dice no 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 assolutamente anzi mi piace e dico ok va bene però frequenta gli incontri la domenica va in chiesa con tua mamma dice no 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 io ho un problema dico qual è il problema lei dice io sono diventata bisessuale a me piacciono sia gli uomini ma anche le donne e pratico esperienze con entrambi a quel punto io fermo siccome pratichiamo una cultura di amore che cosa fa tende la mano ma respinge il peccato quindi tendo la mano di guarda non c'è problema se tu vuoi gesù è pronto ad aiutarti a liberarti e a darti una ti siamo vicino ti vogliamo supportare in questa battaglia perché i ragazzi molto spesso è questo mi è piaciuto molto non c'è il fatto che posso parlare di alcuni problemi quindi creare quella cultura senza però passare all'altro estremo cioè va bene non fa niente ma entrare in quel mondo con una cultura reale di amore dove permette al ragazzo di affidarsi a persone a pastore e quando io ho detto questo le ha detto no perché a me piace fare quello che faccio però poi mi ricordo di quello che mi insegni di quello che mi predico e do tutta la colpa a dio quindi cosa sta facendo lo spirito di questo secolo sta portando i ragazzi a dire se ti stanno messo delle regole alla fine la colpa di tutto non è neanche del pastore del genitore ma è di questo dio che lui ha messo questi principi di bene giusto peccato e questi principi sono i principi capisaldi della stregoneria per dirla l'ultima su quello che tu dicevi proprio è collegato anche un'altra statistica proprio della della wicca dove dice che un ragazzo su due stanno lasciando il mondo evangelico pentecostale e sta abbracciando questa pseudo religione però questo è un argomento la wicca e io personalmente lo conosco perché in una mia precedente testimonianza col salvatore ho affrontato il mondo dell'esoterismo e quindi so di cosa stai parlando però nelle chiese non viene trattato ti chiedo perché perché pastori non sono preparati o i predicatori o perché è effettivamente qualcosa che si è diffuso solo ultimamente e quindi prima non se ne parlava perché effettivamente non c'era questo problema allora il problema c'era c'era sotto un'altra forma perché c'è sempre stato il discorso del satanismo della stregoneria io parto molto dal fatto che alcuni argomenti non si vogliono toccare nella chiesa perché richiede sporcarsi le mani tempo preparazione e avere un cuore che va oltre di quello che vediamo immaginiamo e non è sempre facile un cuore che non giudica un cuore che non giudica a me questo argomento lo dico sempre quando insegno in questo argomento specifico a me non piace ci sono inciampato dentro lo dico proprio in questo non sono inciampato dentro però perché come questo come altri ho visto un'urgenza che c'era una necessità che c'è e non è più il discorso subliminale oggi non si parla più di messaggi sublimi messaggi sono diretti cioè senza mezzi termini e nella musica e nei cartoni e nei film e nelle serie tv tutto poi li porta ad allontanarsi da questo dio e dai contenuti della parola di dio che io non voglio più alle regole non voglio più assolutismo lo dice chiaro la statistica chi l'ha detto che quindi una ragazza del genere come tanti mi dicono chi l'ha detto se tu domandi a un ragazzo oggi anche nella chiesa che sta lì lì e gli dice ma chi ha detto che un matrimonio deve essere fatto per forza su una umana donna se noi ci limitiamo soltanto a dire no perché lo dice la parola di dio non risolveremo niente perché lui esce lì fuori e il cartellone pubblicitario gli dice non solo che è assurdo quello che noi insegniamo ma che può avere addirittura relazioni con due tre più donne quindi una strategia è dare un valore sempre dietro a un comandamento cioè fallo innamorare del valore fallo innamorare per poi portarle al valore però qualcosa evidentemente nel mondo della predicazione qui non funziona noi dobbiamo sicuramente guardarci dal pericolo di andare a cercare per forza il colpevole esatto perché poi le responsabilità le colpevolezze non stanno mai tutte da una parte assolutamente e nel nostro compito non è anche quello di stabilire in che percentuale la responsabilità appartenatizio e accaia però un dato sul quale noi dobbiamo che dobbiamo commentare è questo evidentemente c'è un varco un vuoto tra i giovani e il corpo pastorale o è un giudizio troppo affrettato c'è un c'è un divario tra le generazioni questo c'è non ce lo possiamo nascondere e ci sono forti problemi su questa cosa voglio soffermarmi su un punto che francesco diceva c'è un forte divario quindi ci deve essere per forza un venirsi in conto perché io credo che la benedizione di dio sta quando le generazioni camminano insieme e non si distruggono insieme gran parte delle chiese oggi nascono da spaccature di altre chiese e io te credo pesa secondo te questo questo che dobbiamo definire cattivo esempio perché onestamente pensare di spaccare una comunità di fede perché noi stiamo parlando di giovani che ammadorano la chiesa completamente non vogliono più sentirne parlare certo insomma da qualche parte qualche ragione ci deve essere necessariamente non dobbiamo cercarla fuori assolutamente individualità però quanto può pesare il fatto che spesso diciamo l'apice la leadership non è un grande esempio sotto questo aspetto tantissimo perché oggi quello che conta per cambiare la vita dei ragazzi è proprio l'esempio più delle parole più di quello che si fa è l'esempio loro vogliono vedere esempio di ridere sempre nel matrimonio cioè quindi ragazzi che la cosa che a noi piace a mia mia moglie è per quello che crediamo che sempre dio ci permetta perché siamo comunque genitori giovani di onorare il nostro matrimonio è quello che ci dico vorrei avere la famiglia come la tua cioè questa è la sfida in questo tempo più delle belle parole più delle prediche essere un esempio in tutto e avere una famiglia che teme dio c'è una generazione negli ultimi anni negli ultimi anni da dire emozionale c'è una generazione che come fa nelle pratiche normale della loro vita le loro emozioni lo sta vedendo il cristianesimo come negozioni quindi passano questo è un argomento molto importante non solo lasciano la chiesa ma alcuni invece lasciano anche chi è dio perché non l'hanno realizzato e si passa da una chiesa ad un'altra chiesa quindi cercare una chiesa più cool quella che va di moda insomma di moda nel momento e questo ti dà di fondo un grande problema cioè quanto è realizzato di dio ma questo quanto ti sei innamorato della parola di sono il primo che credo che ci sia bisogno di una chiesa contemporanea nel modo di comunicare il vangelo cioè è fondamentale conoscere il mondo parlare in modo contemporaneo però portare i ragazzi a innamorarsi non degli effetti ad avere un'esperienza profonda ma del contenuto certo che sia nella grande differenza ecco io sono felicissimo che sia proprio tu a dire una cosa di questo genere che allora si avviene da uno con la barba c'è ha compiuto da poco 70 anni ci si aspetta questo da lui perché ma che sia proprio tu con una tale differenza di età fra me e te e poi che sia tu che viene colui che viene da quel mondo c'è l'impegno di responsabilità verso i giovani per me questa è musica dolce alle mie orecchie allora noi torniamo qui da dove siamo partiti perché abbiamo adesso soltanto cinque minuti durante i quali noi tre dobbiamo arrivare tirare le conclusioni perché vogliamo prima di tutto parlare ai giovani che ci stanno seguendo in secondo luogo visto che sono stati citati in causa certo visto che parlo con un avvocato a la leadership allora non vogliamo semplicemente cioè puntare il dito è una cosa molto facile però anche ai leader al di là di ogni atteggiamento polemico con loro con la leadership diciamo che vogliamo dare anche un suggerimento vieni dal campo cioè ora abbiamo adesso sono quattro minuti tu volevi dire qualcosa proprio per quanto riguarda la leadership io seguo vincenzo sui social lui con adolescenze estreme quello che ti volevo chiedere questo io vedo che nella tua base di adolescenze estreme ci sono spesso tanti e tanti giovani anche nei tuoi post tu fai vedere questo e volevo chiederti da cosa dipende dalla tua disponibilità dal modo innovativo con cui predichi dai temi che affronti o dal fatto che a volte ci inseriscono anche un'anteprima ludica prima della predicazione prima del culto vero e proprio un po' tutto insieme magari sono tutti strumenti necessari avere degli argomenti attuali ai ragazzi è fondamentale oggi portarli nella parola di dio deve essere la chiave e questo richiede avere del tempo per studiare la parola di dio e quindi tu puoi parlare di bullismo di problemi che riguardano il mondo dei ragazzi portandoli nella parola di dio facendoli innamorare della parola di dio parlando di identità eccetera quindi questo è importante comunicare quello è importantissimo però non bisogna avere neanche paura perché questo è un altro dramma sembra che ti spiego proprio perché c'è questa grande influenza dei social che influenza i ragazzi anche nel seguire la chiesa non si deve avere paura di far capire che la chiesa non è soltanto bello quello che si vive luci o atmosfere stupende grandi conferenze grandi numeri ma la chiesa si vive nel quotidiano nel personale lo vivi abbracciando l'anziano lo vivi camminando col rispetto dell'altro lo vivi anche in un piccolo contesto molti ragazzini corrono dietro grandi numeri grande grandi può bello quello si parte da una base io cerco di fare innamorare ragazzi di gesù e della sua parola è una grande sfida lo voglio proprio ammettere negli ultimi due anni è veramente difficile trovare ragazzi che scelgano di fare sul serio con dio e il sul serio con dio non è vivere il cristianesimo la domenica piuttosto che un incontro alla conferenza sono delle esperienze che vanno fatte necessarie bellissime ma significa vivere gesù nel quotidiano personalmente il giorno per giorno e portarlo nell'assemblea comune oggi quando tu parli in questo modo ecco spezziamo la lancia anche nel riguardo il mondo degli adulti ai ragazzi e che significa abbracciare delle responsabilità innamorarsi di chi è gesù fare delle scelte che significa lasciare delle compagnie lasciare una fidanzata se ti porta a peccare onorare dio in tutti i modi è musica che fa male agli adolescenti non è gradita ma è quella una chiave di svolta quindi abbracciare le due generazioni insieme è fondamentale creare dei muri porterà uno scontro e non arriveremo da nessuna parte allora noi siamo arrivati alla fine della trasmissione però a differenza delle volte precedenti quando io ho chiesto a voi ospiti di pregare questa volta devo dire devo fare con una missione e quello che hai appena detto da un punto di vista di predicatore del vangelo mi ha fatto immensamente piacere perché mi hai dato l'impressione adesso non per lodare te come diceva una volta un mio amico non gonfiarti non diventare orgoglioso perché mi hai dato l'impressione di un cristianesimo molto radicale che va in controtendenza perché che si allontana dall'aspetto della spettacolarizzazione che ormai fa parte di un certo tipo di cristianesimo soprattutto nel neo pentecostalesimo però sono lieto di sentire questa dolce musica fatta proprio da te con un'enorme differenza di età e io sento così voglio pregare io preghiamo noi insieme faccio io la preghiera solo perché ormai siamo arrivati al termine della trasmissione che il signore possa benedire il tuo lavoro posso posso dire un 30 secondi una sfida che stiamo facendo nell'ultimo tempo e fare innamorare i ragazzi della bellezza del corpo di cristo e la bellezza del corpo di cristo e anche il canto dell'innario fatto dalla sorella di anni 80 e differenza quello si chiama la multiforme grazie di dio come lo faccio innamorare di quella che può essere la musica lì più contemporanea è ovvio che poi ognuno un'identità ma dobbiamo capire che la chiesa e un corpo e va amato per la sua bellezza ecco in pratica dobbiamo recuperare da che venga il fatto che venga proprio da vincenzo questa esortazione a recuperare non perdere la memoria storica dello stesso pentecostalesimo insomma questa ti faremo tornare hai superato la prova tornare qui perché questa trasmissione questa emittente hanno un solo obiettivo proporre dalla il ritorno alla sacra scrittura perché è l'unica che può trasformare la nostra vita preghiamo e poi ci daremo appuntamento con un'altra trasmissione signore nostro ti preghiamo con molta semplicità ma anche con molta franchezza che tu accolga la nostra preghiera a favore di questo bellissimo ministero che vincenzo insieme con la moglie sta svolgendo tra i giovani abbiamo toccato signore menzionato diverse criticità e francamente dobbiamo ricordare noi stessi che se l'eterno non edifica la casa in vano si affaticano gli edificatori se l'eterno non veglia sulla città in vano vegliano le guardie noi nella nostra umiltà signore pensiamo di essere edificatori anche guardie persone che hanno gli occhi aperti sui pericoli che incombono sulla chiesa ma allo stesso tempo vogliamo ricordare che bisogna rifugiarsi nelle tue nella tua cura signore e bisogna avere te al nostro fianco perché sia tuo a guidare signore ti voglio pregare per una benedizione super speciale per vincenzo e la moglie e vogliamo pregarti o signore per una benedizione sui giovani dei quali si stanno prendendo cura signore ti preghiamo che questo lavoro possa prosperare dalle alpi alla sicilia visto che abbiamo sentito che vincenzo andrà anche all'estero è già stato signore che benedica tu il loro lavoro anche all'estero ti preghiamo nel nome di gesù amen amen grazie vincenzo grazie francesco noi comunque sicuramente tornerai su questi schermi grazie grazie a tutti grazie a tutti